Opsin lettino da massaggio spa elettrico 3 motori riscaldato, lettino da massaggio che unisce eleganza, comfort e tecnologia avanzata, Opsin è la scelta perfetta. Ideale per spa di lusso, hotel e centri benessere, questo lettino rappresenta l'equilibrio ideale tra design raffinato e funzionalità avanzate, progettato per garantire un'esperienza di relax totale. Caratteristiche principali del lettino da massaggio Opsin, il lettino Opsin è dotato di tre motori elettrici che permettono di regolare facilmente l'altezza, l'inclinazione dello schienale e l'angolazione del supporto gambe. Ogni regolazione è pensata per adattarsi alle esigenze del cliente e garantire una posizione ergonomica durante i trattamenti, per offrire un comfort superiore, il lettino è dotato di un sistema di riscaldamento integrato, perfetto per rilassare i muscoli e migliorare la circolazione durante il massaggio. La temperatura regolabile assicura che il cliente possa godere di un calore piacevole e costante, la comodità è ulteriormente amplificata dalla pedaliera comandi integrata nella base, che consente all'operatore di regolare il lettino senza interrompere il trattamento. Questa funzione pratica e intuitiva rende l'esperienza più fluida e professionale, migliorando l'efficienza del terapeuta. Il lettino da massaggio Opsin non è solo altamente funzionale, ma vanta anche un design elegante, con linee pulite e una struttura solida, che si integra perfettamente in ambienti spa di lusso. La finitura curata e i materiali di alta qualità garantiscono durabilità e stile. Grazie alla sua versatilità e facilità d'uso, il lettino Opsin è perfetto per qualsiasi trattamento spa, dai massaggi rilassanti a quelli terapeutici.